E' Sara Toscano la vincitrice della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante ha trionfato su Marisol Castellanos, Medaglia d'Argento, Petit, Dustin Taylor, Holden e Nida. Oltre il pubblico, Sara Toscano ha conquistato anche Carla Bruni che su Instagram ha così scritto di lei. Grazie alla meravigliosa Sara Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza. Il riferimento è all'esibizione della cantante sulle note di Quecun Madit. Sara è diventata maggiorenne dentro la scuola di Amici, e non è riuscita a finire il suo percorso di studi. A questo ci ha pensato suo padre, come dichiarato ha di più. La mia paura è che quando Sara uscirà dalla parentesi di Amici non riesca a rientrare nel mondo reale. Non vorrei che il mondo dello spettacolo la condizionasse. E' questa la mia preoccupazione. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Per questo io e sua madre Petra abbiamo deciso di iscriverla a scuola come privatista, visto che quest'anno non ha potuto continuare il suo percorso scolastico da studentessa al liceo linguistico. Non si sa mai nella vita. Se quest'anno poi dovesse riuscire a diplomarsi per lei, si apriranno le porte dell'Università Bocconi, con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management.